Allora ragazzi, passiamo a grammatica. La lezione di geografia ci è venuta un po' lunga, ma quella di grammatica sarà semplice e breve. Si parlerà dell'attributo e della posizione che dovete sapere riconoscere nelle prossime vostre analisi logiche. Praticamente sono l'aggettivo che nell'analisi logica prende il nome attributo e la posizione che è un nome che va ad appoggiarsi, a dare una colorazione a un altro nome a cui si riferisce, che fungerà da soggetto. Quindi, iniziamo con l'esempio, la frasetta che introduce. Barcellona, vivace città spagnola, è meta di molti turisti. Merita una visita all'affascinante barceloneta, il vecchio quartiere dei pescatori e il suggestivo barrio gotico. L'attributo, quindi, introducendo, può essere un aggettivo o un participio. Quindi, suggestivo, un aggettivo, affascinante è un participio presente che funge da attributo, in questo caso, quindi è come fosse un aggettivo. L'attributo concorda nel genere, numero, quindi concorda nel genere, vecchio, quartiere, quartiere maschile, per cui aggettivo attributo maschile. Città spagnola, quindi città è femminile, spagnola, quindi prende la forma femminile singolare, ovviamente, quindi nel numero città vivace, singolare, ovviamente, e turisti molti al plurale. Va bene? Questo, vabbè, giusto per saperlo, perché non è che si può sbagliare, diciamo, quando scrivete o fa dell'analisi logica. Basta che riconosciate che molti è attributo di turisti. Va bene? La posizione può essere semplice, quindi città è una posizione di Barcellona. Ciltà, posizione, vivace e spagnola, attributi, Barcellona, soggetto. E composta, quindi, il vecchio quartiere dei pescatori, va bene? Quindi Barcellona è, cioè Barcelloneta è il vecchio quartiere dei pescatori. Una posizione, un attributo, un complemento, e che vanno, diciamo, a arricchire i concetti che vogliamo esprimere su Barcelloneta. Bene? Quindi, fondamentalmente, l'attributo nello specifico. Frasi di esempio. Voi sapete che suo padre era un uomo illustre, oppure abbiamo deciso di dedicare ogni risorsa a ricerca scientifica. In celeste, in evidenziati, sono degli aggettivi. Bene. E in analisi logica dovete riconoscerli in quanto attributi e dargli questo nome. Attribuiscono, infatti, ulteriori informazioni ai nomi che accompagnano. Quindi, per questo si chiamano attributi perché attribuiscono concetti, informazioni e via dicendo. L'attributo può essere costituito da un qualsiasi tipo di aggettivo. Fresca notte, aggettivo qualificativo. Mie fortuna, aggettivo possessivo. Quella sera, aggettivo dimostrativo. Alcuni corridori, aggettivo indefinito. Due anni, aggettivo numerale. Quindi, ricordatevi, cominciano ad essere difficili. Che cibo, aggettivo interrogativo. Quale bellezza, aggettivo esclamativo. Ma sempre aggettivi sono e quindi diventano attributi. Quindi, nell'analisi logica dovete scrivere attributo e ve lo cavate. Non è necessario che vi ricordiate che tipo di aggettivo era come nell'analisi grammatica. Però, che lo riconosciate come aggettivo in quanto attributo e in quindi attributo è importante. Oppure, può essere un participio usato come aggettivo. Un caldo soffocante. Participio presente. Una persona stimata. Participio passato. L'attributo, ribadiamolo. Concorda con il nome a cui si riferisce nel genere e nel numero. L'insegnamento adatto. Sogni svaniti. Plurale. Se è maschile, ovviamente. Fiocca, luce. Singolare, femminile. Prime sensazioni. Femminile, plurale. In quante espensioni di un nome può riferirsi a qualsiasi elemento della frase. Non solo ai soggetti. Quindi, anche se fa parte di un complemento, dovete riconoscerlo in quanto attributo. Quindi dire, che ne so, complemento di luogo più attributo. Quindi, ora il mio sogno si realizzava. Attributo del soggetto. Quindi, il mio sogno è soggetto più attributo. Si realizzava il predicato verbale. Ora. Complemento di tempo. Ecco qua. Nella nostra casa l'infanzia è stata felice. In questo caso, il soggetto è l'infanzia. È stata felice il predicato nominale. Nella nostra casa è il complemento di luogo più attributo nostra. Mia nonna era una persona gentile. Ok? Quindi, mia nonna, soggetto, era una persona. È il predicato nominale. È gentile. È la parte nominale del predicato. È un attributo del predicato nominale. Lei era la mia amica. Era contenta. Lei, la mia amica, era contenta. Quindi, lei, amica. Chi? Lei. È apposizione di lei, del soggetto. È mia. È un attributo dell'apposizione. E qui si complica. Va bene? Quindi, lei era contenta. Predicato nominale. Nell'analisi dell'attributo va ricordato che un nome può avere più attributi. Era un giovane, bello e affascinante. Ok? Quindi sono due attributi che si riferiscono a giovane. Beh, mi raccomando, fate attenzione perché, insomma, devo dire che la lezione di oggi sarà semplice e corta, ma ho riscontrato, vedendo i compiti che mi avete inviato fino ad oggi, che, predicato il soggetto, nella maggior parte dei casi non li avete capiti appieno. Insomma, dovete studiare meglio e fare più esercizi perché nessuno di voi a un compito in classe di grammatica avrebbe preso un voto superiore a 8, 7. Insomma, ce n'erano parecchie di imprecisioni, quindi attenzione, non pensate, vabbè, ho fatto, il professore è contento. Non mi sto a dire uno per uno gli errori che avete fatto che non ne usciamo vivi, ma sappiate che, beh, sarebbe utile, ma per ora, insomma, dobbiamo organizzarci meglio. Però, insomma, ripassate meglio, eh, mi raccomando. E lo stesso dovrete fare con attributo e apposizione, quindi questi saranno gli esercizi da fare. Per finire, quanto dobbiamo sapere sull'attributo, sappiate che gli avverbi e alcune locuzioni anteposti all'aggettivo vanno considerati parte integrante dell'attributo. Ho avuto un'infanzia molto felice, che vuol dire felicissima, va bene? Quindi è il grado superlativo di felice. Quindi ho avuto, che cosa? Un'infanzia molto felice, quindi, eh, predicato, cioè, complemento oggetto con attributo. Avevo deciso di dedicarmi a un'attività del tutto diversa, assolutamente diversa, quindi è sempre, diciamo, un attributo in grado superlativo. Non vanno invece considerati attributi gli aggettivi usati in funzione predicativa. Ho fatto un'affermazione giusta, lì è attributo di affermazione. L'affermazione è giusta, parte nominale del predicato. L'affermazione fu considerata giusta, in quel caso diventa complemento predicativo del soggetto, perché abbiamo, diciamo, l'altro tipo di predicato. L'affermazione fu considerata giusta, predicativo del soggetto, che è un complemento in questo caso. Attenzione, eh, questa va, diciamo, visto con attenzione, ribadisco. Seguono gli esercizi sui attributi, ecco qua. E passiamo all'apposizione. Le frasi sono La posizione, quindi, è un nome che si aggiunge a un altro elemento nominale della frase, per meglio precisarlo. È un nome che va affiancato a un altro nome, in pratica. Non è autonoma l'apposizione. Dipende sempre dal nome o pronome a cui è legata. E può avere una funzione di soggetto o di complemento il nome a cui è legata. Non è obbligatoriamente riferita a un soggetto. Se lei, soggetto, mia, amica e mia, confidente, bene, quindi queste sono apposizioni e queste attributi, mia e mia, sono aggettivi, quindi sono attributi, Dove sedo le durmine soffrirei. Massimo ha giurato a me, in complemento, di termine, suo difensore, quindi io sono il suo difensore, quindi attributo e apposizione, apposizione e attributo, perenne gratitudine. Quindi qui il soggetto è Massimo, ma qui è riferito al complemento. E può precedere o seguire il nome a cui si riferisce. Elisabetta, amatissima, sposa. L'amatissima, sposa, Elisabetta. Elisabetta, quindi sposa, è apposizione, amatissima, è attributo. Attenzione, poi l'apposizione può essere semplice, se è un nome soltanto, è solo un nome. De Luca, l'allenatore, desidera il successo. Oppure composta quando è formata da più elementi. Enrico Clerici, l'amico, ecco, questo è il nome che fa da apposizione, a me più caro, ulteriori specificazioni, quale amico, quello più caro a me. Sono tutti, diciamo, formano questa apposizione composta. Ritorna con una medaglia. Qui, insomma, sembra facile, ma fateci attenzione. Allora, particolarità della apposizione. La apposizione spesso è introdotta dalla preposizione da, o avverbi o locuzioni tipo come, in qualità di, in funzione di. Quindi mio nonno, da giornalista, come giornalista, in qualità di giornalista, è stato diverse volte in Africa. E il direttore, in qualità di responsabile, deciderà il da farsi come responsabile, eccetera, eccetera. Soprannomi e patronimici si considerano apposizioni. Patronimici sono quelli che, diciamo, richiamano il nome di cui stiamo parlando. Quindi Alessandro il Grande, soprannome di Alessandro, ed è la sua apposizione. Conquistò un immenso impero. Un esempio di patronimico, vi ricordo, è il Pelide Achille. Achille, soggetto. Pelide, patronimico, quindi apposizione, è il figlio di Peleo. Bene? Quindi, sottolinea le apposizioni. Firenze, capoluogo della Toscana, è ricca di monumenti. Ho conosciuto il professor Bianchi, dirigente della scuola media, e via andando. Bene? Molti personaggi famosi vengono tradizionalmente indicati con espressioni che li contraddistinguono. Imparerai alcuni di loro soprannomi inserendo nelle frasi le apposizioni elencate qui di sotto. Il senso della frase ti aiuterà a scegliere la posizione giusta. Allora, Carlo Alberto di Savoia non era mai sicuro delle proprie decisioni. Quale sarà, fra queste, diciamo, definizioni, quella che più si adatta a uno che non era mai sicuro delle proprie decisioni? E quale sarà? Beh, ok, ce la potete fare. Su. Allora. Quindi, seguono gli esercizi che sono utili a imparare bene la posizione. Ecco qua, andando avanti. Cercate di farle il più possibile, il meglio possibile. Allora, per ribadire quanto abbiamo detto finora, l'attributo è un aggettivo o un participio usato come aggettivo. Concorda in genere il numero con il nome a cui si riferisce e può riferirsi a qualsiasi elemento della frase. La posizione è un nome. Quindi l'attributo è un aggettivo, la posizione è un nome. È un nome che si aggiunga a un altro elemento nominale della frase. Può essere semplice o composta, può essere preceduta da avverbi, dalla preposizione da o da locuzioni. Procede o segue il nome che accompagna. Quindi, esercizio di laboratorio e poi fare l'analisi logica adesso, diciamo, con tutto quello che sapete fino adesso. Quindi, i soggetti, i predicati, l'attributo e la posizione. Poi, se trovate dei complementi, indicateli come tali, complemento, va bene? E, ovviamente, vi sarà molto utile fare anche l'esercizio di competenza. Bene? Come vedete, rispondete alle domande nella maniera migliore possibile. E poi c'è una verifica. Se vedete, ma mi sembra che non vi rendete conto più di tanto, che non fate facilmente questi esercizi, eventualmente c'è anche il percorso di recupero. Se avete tempo e voglia, fatevi pure questo. Quindi, gli esercizi sono qui, fino a pagina 566. Va bene, andranno la prossima volta che abbiamo grammatica, che sarà mercoledì, quindi avete tutto il tempo. Va bene? Ragazzi, allora, per oggi vi saluto. Buon weekend, mi raccomando. Guardate con puntualità le video-lezioni. Non mi lasciate solo. Guardate con puntualità le video-lezioni.